Questo è un altro video tutorial per la compilazione delle relatorie provinciali di istituto di supplenza anni scolastici 2021-21-22. Avevamo già visto come inserire i titoli di accesso, come inserire un titolo di servizio, adesso andiamo a vedere la sezione B che riguarda gli ulteriori titoli rispetto al titolo di accesso. Intanto diciamo che questa azione disponibile che si accede da questo tasto, si fa accedi e si entra nelle tabelle per dichiarare i titoli, intanto sono 26 tabelle di riferimento, 26 voci, vedete, fino alla numero 26, scendendo si arriva alla tabella numero 26, e diciamo che sono dei titoli che vengono riferiti a tutte le gradatorie di riferimento, per cui si compila una volta sola per tutte le gradatorie e non per singola gradatoria. Quelle più diffuse, per esempio, andiamo a cercare il titolo accademico di diploma di laurea specialistica. Chi ha una seconda laurea di vecchio ordinamento o specialistica, può dichiararla, per esempio, nel punto B5, inserendo la sua seconda laurea. Facendo aggiungi, va a dichiarare il titolo di studio, per esempio una laurea di vecchio ordinamento, o riferimento, per esempio, se uno dovesse avere una laurea in astronomia, perché finora le lauree che avevamo dichiarate erano quelle in matematica, e dunque ha acquisito una seconda laurea in astronomia, per esempio, allora, dando la data di conseguimento di questa seconda laurea, immaginiamo nel 2014 giugno, nel 18 giugno 2014, l'istituzione Università e Studi di Bari, ecco, facendo una cosa del genere, si inserisce e dunque viene un titolo, un titolo che, vedete, fa diventare verde questa spunta, che dice che la sezione è stata compilata. Così via tutte le altre tabelle, ognuno deve andare a cercare il titolo di riferimento, per poter inserirlo nella domanda. Per esempio, una molto diffusa è la B24, titoli accademici, professionali e culturali, con le certificazioni informatiche. che questo è fino a due punti. Si possono inserire un massimo di quattro titoli, e in questo caso, se si dovesse fare aggiungi, il tipo di certificazione, per esempio, patente europea informatica, che è in nota come CDL. Si fa la data di conseguimento, si dice, per esempio, che si è presa nel 2019, a maggio del 2019, l'istituzione per cui l'ha presa, per esempio, AICA, che si fa inserisci, e il titolo viene così inserito. Ecco, questi sono degli esempi per far vedere come si compila la tabella delle valutazioni. e speriamo che questo video sia stato utile per la compilazione della domanda. Faremo altri video riguardanti altre sezioni, in particolar modo la sezione che riguarda la definizione delle istituzioni scolastiche per le gradatorie d'istituto. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube e nel nostro sito www.tecnascuola.it Arrivederci.